Sicuramente ci prendiamo un grande merito, il grande merito di aver salvato il mercadante quando stava per crollare dando contributi, sostenendolo molto forte anche nell'ambito di iniziative che abbiamo fatto, penso al forum delle culture, i 30 anni di Edoardo, penso all'agibilità definitiva che abbiamo dato al San Ferdinando, altrimenti il teatro nazionale non si aveva, penso al finanziamento della scuola, la prima scuola comunale pubblica in lingua napoletana che sarà diretta da Luca De Filippo, penso al lavoro che ho fatto anche personalmente presso il governo, penso quanto sia stata determinante l'azione di questi giorni perché nonostante una programmazione artistica che è stata ritenuta insufficiente, nonostante il tema del concorso e nonostante i blitz nottetempo mentre noi ci impegnavamo per il teatro nazionale altri facevano altro abbiamo ottenuto un grande risultato che poteva essere ancora più bello nel punteggio se non ci fosse stato quello che c'è stato sinora, allora io credo che adesso c'è bisogno di una svolta, la svolta deve essere quella di ripartire dal teatro nazionale che è una notizia straordinaria, io non voglio dire che forse una delle notizie più belle da quando sono sindaco di Napoli ma essere la prima città del sud Italia per la prima volta per un teatro nazionale, quanto significa aver puntato sulla cultura nel momento di crisi economica maggiore, dispiace un po', ecco che questa notizia bellissima che non è merito solo nostro ovviamente è merito anche di chi all'interno del teatro stabile ci ha creduto, merito anche di altre istituzioni che hanno fatto la loro parte ma sicuramente quello che è accaduto in queste ultime settimane ha un po' danneggiato l'immagine e quindi noi la dobbiamo riconquistare subito con le istituzioni che rimangono dentro, che si rispettano, che ripartono con il nuovo statuto e con una governanza nuova perché questo insomma credo che sia quello che emerge dal dibattito di questi giorni, da una lotta per la trasparenza senza dare giudizi personali su nessuno e anche il monito che viene un po' dal governo, dal Ministero dei beni culturali credo che questa direzione di trasparenza non può che accompagnarci tutti, tra l'altro oggi se non vado errato, oggi è 25, scadono i termini per il teatro, per la manifestazione di interesse quindi io già stasera, domani vedrò le candidature, speriamo che siano candidature di alto profilo e farò la mia individuazione e quindi come dire, si riparte.